Buongiorno amici investitori, buon inizio settimana e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly Fuzzi Mib. Come di consueto ogni lunedì analizziamo i principali indici di borsa italiana per condividere le strategie operative valide per la settimana in corso. La scorsa settimana le quotazioni del Fuzzi Mib hanno ceduto terreno. Dopo il test di area 28.000 punti. Con il ribasso registrato nelle ultime sedute i corsi si sono riportati in prossimità della trendline discendente che collega i massimi registrati il 17 aprile e il 19 maggio. Il quadro tecnico rimane a favore dei compratori nel breve termine fino a che sarà difeso il livello di sostegno 26.900 punti. Una violazione a rialzo dei 27.500 punti potrebbe dare il via strategie long con obiettivo di profitto nei pressi del livello tondo e psicologico a 28.000 punti. Fronte ribassista si potrebbero valutare strategie short in caso di segnali di debolezza proprio da questo livello a 28.000 punti. In questo caso il primo obiettivo di profitto potrebbe essere localizzato a 27.500 punti mentre il successivo sul livello tondo a 27.000 punti. Bene, questo è il quadro tecnico del Fuzzi Mib da parte dell'ufficio studi di investire.biz. vi ricordo che potete operare anche voi sull'indice di borsa italiana con i certificati long e short di BNP Paribas. Per farlo è semplice basta visitare il sito investimenti.bnpparibas.it nella sezione certificate a leva turbo e mini future. Potrete ricercare il vostro prodotto. in tutte le categorie mettiamo indici, sottostante, Fuzzi Mib, direzione per esempio long. Ecco che compariranno tutti i prodotti dell'emittente francese che potrete utilizzare per la vostra operatività. Bene amici, per oggi è tutto. Vi ringrazio per la visione e non mi rimane altro che darvi appuntamento lunedì prossimo per la nuova analisi sul Fuzzi Mib. Buona settimana e buon training a tutti. Grazie.